E' finita come all'andata, risultato compreso con il Latina nettamente superiore sulla carta in campo, anche se rispetto alle previsioni è stata meno facile del previsto. Forse perché il Catanzaro, composto per metà da Berretti, ma per l'altra metà da elementi esperti, ha messo in campo tutto l'orgoglio possibile e immaginabile. Per rendere la trasferta meno insidiosa, il Latina ha cercato da subito il gol del vantaggio. Gol che è arrivato dopo quattro minuti, percussione centrale di Mancosu, scambio con Martinez, conclusione respinta, mezza mische e pallone girato in rete dalla punta sarda che trova il primo gol in campionato. Nell'esultanza c'è tutto il senso di liberazione. Il Catanzaro colpito a freddo cerca la reazione e si affida al diciottesimo alla punizione di Morello, forte ma imprecisa. Al venticinquesimo l'occasione del raddoppio, combinazione di prima Berardi, Martinez e Tortolano, destro al volo che picchia sotto la traversa e ritorna in campo. Al trentaduesimo ci prova ancora Tortolano, stavolta di sinistro, pallone sul fondo. Il secondo tempo si apre con un grosso rischio per la capolista. Calcio piazzato di Lauteri che pizzica il montante alla destra di Martinuzzi. Non è il caso di tenere aperta la partita. Al dodicesimo, iniziativa personale di Mancosu, tiro alto sulla traversa. Il raddoppio marca il trentaduesimo, l'azione parte da centrocampo, Giannusa apre per Tortolano, crossa al centro, Martinez tocca per Ricciardi, passaggio all'indietro e Berardi dalla distanza trova il varco utile. La partita non ha più molto da raccontare e Latina comincia a pensare già al Milazzo.